Stop al pesce fresco a tavola per l'avvio del fermo pesca che porta al blocco delle attività della flotta da pesca italiana lungo tutto l'Adriatico da Trieste a Bari. A darne notizie col diretto Impresa Pesca che sottolinea come il provvedimento di fermo si allarga al tratto di costa da Pesaro a Bari per 43 giorni dopo che era già scattato lo scorso 25 luglio nel tratto da Trieste a Rimini per un periodo analogo. In un paese come l'Italia che importa più di due pesci su tre nei territori interessati con il fermo biologico aumenta peraltro anche il rischio, sottolinea Impresa Pesca Coldiretti, di ritrovarsi nel piatto per grigliate, fritture e soprattutto al ristorante un prodotto straniero o congelato se non si tratta di quello fresco made in Italy proveniente dalle altre zone dove non è in atto il fermo pesca, dagli allevamenti nazionali o dalla seppur limitata produzione locale dovuta alle barche della piccola pesca che possono ugualmente operare. Il blocco delle attività in Adriatico, spiega la Coldiretti, terminerà il 5 di settembre nel tratto da Trieste a Rimini e il 26 settembre nel tratto da Pesaro a Bari. Per effettuare acquisti di qualità al giusto prezzo il consiglio di Coldiretti è di verificare sul bancone l'etichetta che per legge deve prevedere l'area di pesca GSA. Dall'associazione arriva anche una critica però all'attuale format del fermo pesca inaugurato esattamente 30 anni fa che secondo Coldiretti è dimostrato di essere inadeguato poiché non tiene conto del fatto che solo alcune specie ittiche si riproducono in questo periodo mentre per la maggior parte delle altre si verifica in date differenti durante il resto dell'anno. Da qui la proposta di Coldiretti impresa pesca di differenziare il blocco delle attività a seconda delle specie mentre le imprese ittiche potrebbero scegliere ciascuna quando fermarsi in un periodo compreso tra il 1 luglio e il 30 ottobre.